Dei ragazzi già... no vabbè Ti posso scrivere Dipende L'amicizia sì L'amicizia volentieri perché io cerco amici Cuccioli cerca amici Dove sei saltiretta? Mi ho abbandonato Non dirmi che mi hai abbandonato Vabbè è anche tu rito perché insomma sono le 4 di notte Ah eccoti Io dono ancora qui Sempre qui meno male Ma seguimi su Instagram se vuoi Ok ti ho preso in simpatia e ti accetto la richiesta Se vuoi Ringrazio sempre lei quindi non dite cavolate Esatto io sono una persona educata I can give a gift Ma l'avete sentita la canzone di Anna? Cioè fondamentalmente fa cagare Per il remix non è male Non mi dispiace il remix Sei single? No Sono felicemente fidanzata E non posto foto dei piedi Cioè non le mando Volevo dire E neanche del resto Mi piace Questo peluche L'avevo comprato alla Trudy quando era in offerta Perché sinceramente 20 euro di peluche no Però costa 10 euro E poi me l'hanno morsicato i cani E l'ho dovuto mettere in lavatrice E adesso si fa tutto brutto Tutto sparato Un papero sparato Un panda sparato Ragazzi lei Ragazzi lei non me ne metto mai più questi pantaloni col top così corto sempre lo spamino che ti faccio tanto bravissimo non so sono fissata per fare così seguita settare che cerco una maglietta che ce l'ho la maglietta lo so che ce l'ho qua let's see more